Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video in compagnia di Black G Tutorial Andiamo subito al sodo, come vedete sullo sfondo c'è il mio iPhone 5S aggiornato ad iOS 7.0.6, jailbroken e soprattutto come potete vedere altamente personalizzato pieno di tweak, di temi, tutti disponibili su Cydia, tutti belli però che sicuramente vanno a lungo andare a diminuire le prestazioni del dispositivo infatti il mio iPhone 5S è diventato veramente lento, la batteria dura sieno due ore quindi ho deciso di rimuovere tutti i tweak e vorrei ripristinarlo questo proprio per iniziare da zero e sicuramente avere un aumento notevole delle prestazioni c'è però un enorme problema, adesso non si può più ripristinare ad iOS 7.0.6 quindi dovrei per forza ripristinare ad iOS 7.1, l'ultima versione disponibile però come molti sappiamo iOS 7.1 non è jailbreakabile in modo antethered e soprattutto non sul mio iPhone 5S ma d'altro canto io non posso tenermi un telefono che ha la batteria che dura sieno due ore e che è estremamente lento quindi cosa posso fare? se lo aggiorno perdo il jailbreak e questo non deve assolutamente succedere però se non lo aggiorno praticamente il mio telefono primario diventa una cosa inutile perché non posso neanche portarmelo in giro che la batteria si prosciuga veramente in pochissimo quindi qual è la soluzione? ve lo dico subito la soluzione è Semi Restore Semi Restore sviluppato da Coolstar.org è un programma che permette di eseguire come si intuisce dal nome un semi ripristino quindi cancella tutto il contenuto dal dispositivo però non lo aggiorna quindi lo fa restare sul firmware che è attualmente installato quindi è una cosa fantastica ovviamente prima fatevi un backup perché sarà un ripristino a tutti gli effetti con l'unica differenza che il software che installerà sarà quello che è già installato sul vostro dispositivo quindi lo proverò sul mio iPhone 5S insieme a voi ovviamente per eseguire questo semi ripristino il vostro dispositivo dovrà avere il jailbreak e questa versione è compatibile solamente con iOS 7 quindi tutte le sotto versioni quindi come vedete ha riconosciuto il mio iPhone 5S clicco su Semi Restore e semplicemente aspetto senza toccare niente che il mio iPhone esegua un ripristino quindi non tocchiamo nulla e aspettiamo come vedete è comparsa la barra di progresso quindi questo vuol dire che sta formattando il mio iPhone quindi aspettiamo perfetto e come vedete ci dice Semi Restore completato ora possiamo anche chiudere il programma sul computer e come vedete se in questo caso il vostro iPhone sembra morto nel senso schermo nero e non si accende più niente paura è una cosa che può capitare per accenderlo basterà tenere premuti i tasti Home e Power per 7 secondi quindi lo faccio ora 1 2 3 4 5 6 7 e come vedete si è avviato basta tenere premuti questi due tasti insieme per 7 secondi e l'iPhone si avvierà normalmente e vedrete che sarà proprio ripristinato al 100% o meglio quasi perché come vedete c'è ancora il blocco con codice e vedremo che comunque saremo ancora alla 7.0.6 e come vedete wow il mio iPhone 5s sembra appena uscito dalla scatola con l'unica differenza che ovviamente Cydia è rimasto ed è rimasto anche iOS 7.0.6 questo video l'ho finito di editare due o tre giorni dopo l'esecuzione del semi ripristino e vi posso confermare che ha funzionato ora la batteria dura molto di più è molto più fluido ma non ho perso il jailbreak quindi ci sono andato un po' piano ovviamente con la personalizzazione ho installato meno tweak però ho sempre il mio amato jailbreak su un dispositivo praticamente nuovo quindi veramente ottimo tool vi consiglio di averlo sempre sotto mano perché è un'emergenza magari dovete ripristinare il vostro iPhone perché avete danneggiato qualche file ma non volete perdere il jailbreak semi restore sarà la vostra salvezza come lo è stato per me quindi vi ricordo di seguire l'hacker coolstar.org su Twitter detto questo vi ricordo di seguire anche me su Twitter mi trovate con lo username blackjiktuto seguitemi anche su Facebook con nome Andrea a cognome blackjikt iscrivetevi al mio canale se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su mi raccomando andate a vedere il mio sito www.jiksnow.it soprattutto iscrivetevi al mio canale un grande saluto ciao a tutti